Siamo contenti di presentare questo calendario di eventi, di iniziative natalizie, un momento di grande festa a Bagheria perché da anni che si facevano una serie di iniziative, di eventi così corpose, numerose, dobbiamo immancabilmente ringraziare tutte le associazioni del territorio, i cittadini, le attività commerciali, tutti coloro che hanno dato un vero e proprio contributo, inoltre un ringraziamento va fatto all'assessorato regionale delle attività produttive e all'Assemblea regionale siciliana che grazie al loro contributo stiamo svolgendo queste iniziative, queste attività che in tali casi non sono mai state rappresentate a Bagheria. Noi stiamo cercando di dare maggiore attenzione a alcune iniziative importanti che vanno nella direzione del riguardo delle fasce deboli, esempio Cinema per tutti, una iniziativa che guarda con interesse tutte quelle famiglie che in questo arco di tempo non possono avere un momento di svago e quindi un momento di spensieratezza. stiamo cercando di dare la possibilità anche a loro di poter staccare la spina quelle due ore all'interno del cinema per poter anche loro festeggiare come si deve questo periodo natalizio. Ci sono tante altre attività come quella dell'inaugurazione del teatro della Carovana dei Sogni che è una delle attività importanti che noi teniamo a sottolineare che è una compagnia teatrale di ragazzi diversamente abili e finalmente a Bagheria sbarcheranno con alcune iniziative e con alcune rappresentazioni. e quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a queste iniziative, a questi eventi, a vivere la città perché è importante per noi dare un momento di spensieratezza, un momento di sorriso a tutti i cittadini bagheresi e proprio per questo ci siamo impegnati in questi mesi per rendere vivibile e accogliente il nostro paese. Ogni fine settimana ci saranno delle degustazioni e degli eventi culturali legati appunto al prodotto tipico natalizio bagherese. Di contorno a tutte queste iniziative sullo sfincione avremo ovviamente da cori natalizi a scuole che intervengono con i loro spettacolini, anche degli spettacoli con alcuni personaggi come per esempio ci sarà l'inaugurazione di Villa San Cataldo con Salvo Piparo, oppure un'altra manifestazione relativamente al mondo del 700-800 denominata Un tuffo nel passato dove comunque sarà possibile ammirare i costumi d'epoca, avere un corteo storico e anche il Gran Ballo dell'Ottocento. Un'altra cosa che mi piace ricordare è sicuramente la presenza di Slow Food a Bagheria, infatti l'8 dicembre verrà organizzata una manifestazione che vedrà anche Bagheria tra i protagonisti. Questa manifestazione si chiama il Treno del Gusto, è un treno storico che partirà da Palermo e girerà in varie parti della Sicilia e la prima tappa sarà proprio a Bagheria, dove ci sarà la possibilità per i passeggeri del treno di poter scendere a Bagheria, visitare Bagheria e degustare lo Sfinzione Bianco perché essendo un'iniziativa organizzata da Slow Food e come ben sappiamo da poco tempo è nata la comunità e lo Sfinzione Bianco di Bagheria, si coniugheranno le due cose e quindi sarà una bella mattinata di festa. Grazie a tutti!